Si lavora sul rilancio della Galleria Umberto I, anche se le aperture di Starbucks e Monnadori sono state rimandate. È arrivata infatti la firma del documento per la valorizzazione dell'ambito urbano, che comprende anche Piazza del Plebiscito. È previsto anche un locale per il Presidio dei Vigili Urbani, che verrà allestito con la collaborazione con CDF-SPA per la messa a disposizione di una struttura dedicata al servizio di vigilanza di urna a carico del Comune di Napoli. I cantieri invece saranno allestiti entro fine mese per l'installazione dei cancelli notturni e la tempestica prevista e la primavera. Il Comune si è impegnato a farsi carico degli interventi di ristrutturazione, adeguamento e allestimento dell'immobile individuato all'interno della Galleria Umberto I e per la creazione di una sezione del comando di polizia locale a presidio della Galleria. Per il rilancio dell'Umberto I è previsto il restyling dei pavimenti e lucernai, che sono di competenza pubblica e spettano quindi al Comune. Partiranno in concomitanza anche le operazioni per la chiusura notturna del monumento, previsti barchi a Via Verdi, Santa Brigida e Angiporto, con dei cancelli artistici.